Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Il porno d'Ivo o ex. Che dir si voglia. Rocco Siffredi è tornato sul set di una serie. In una veste inedita. Continuate a leggere per scoprire con chi sta vivendo questa esperienza. Il porno attore Rocco Siffredi dopo aver detto addio teoricamente al mondo dell'ar davanti alle telecamere, si sta dedicando a nuovi progetti interessanti. Siffredi per molti è stato e continua a essere un punto di riferimento delle produzioni a luci rosse. Tanto da aver deciso di raccontare la sua vita una serie. Prossimamente su Netflix uscirà la serie Supersex nella quale. L'attore romano vestirà. Per modo di dire. I panni proprio di Siffredi. Un periodo intenso trascorso in Ungheria insieme a lui. Dove vive con tutta la famiglia. Per poter entrare ancora di più nel personaggio. In modo tale da riportare sullo schermo una versione più fedele possibile dell'originale. Oggi invece. Troviamo Rocco Siffredi sul set di una nuova produzione. In Trentino Alto Adige con altri attori italiani. Cosa stanno girando in Trentino Alto Adige? Dal 22 maggio sono iniziate in Trentino Alto Adige. Le riprese della nuova serie Ding Dong diretta da Raffaele Mertes e continueranno fino al 24 giugno. Il personaggio di Don Donato. Interpretato da Enzo Salvi ben presto tornerà su Italia 1. Per la mostrare al pubblico di Mediaset. Gli episodi di Ding Dong 6 e 7. Tra le guest star. Ci sarà anche l'attore romano Maurizio Mattioli. Chiamato ad interpretare lo zio Vescovo. Con l'occasione dell'annuncio di questo gradito ritorno in televisione. Del sesto e settimo episodio della serie Ding Dong. È stata aperta anche una mail per rintracciare comparse e attori per piccoli ruoli da poter inserire. Requisiti richiesti. La maggiore età. Nessuna caratteristica fisica particolare e nessuna esperienza di recitazione pregressa. Per chi fosse interessato. Dovrà inviare una mail a casting.dingdong.gmail.com. Con in allegato tre foto primo piano. Intera e mezzo busto il curriculum e la disponibilità per piccoli ruoli. Le parole di Rocco Siffredi. L'attore di film a luci rosse. Rocco Siffredi attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Ha condiviso con i suoi follower degli scatti che lo ritraggono in montagna circondato di persone. Gente che appartiene al fantastico mondo del dietro le quinte di una serie tv. Precisamente la terza stagione di Ding Dong. Inutile negare che il primo pensiero dei suoi fan è stato verso tutt'altro genere. Ma a spazzare via ogni dubbio sono arrivate le sue parole che hanno accompagnato la foto che vedete al centro. Sul set della serie Ding Dong con il mio grande amico Enzo Salvi è, il mitico Maurizio Mattioli e tutto il cast al completo. Non resta che aspettare la messa in onda della serie, e scoprire quale sarà il ruolo che il pubblico potrà vedere. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo.